Ciao bambini, oggi leggiamo un libro che parla di casa, casa di fiaba. Casa di fiaba, casa stregata, casa di foglie e di rami di nebbia, casa che brucia, casa incantata. Casa di ghiaccio, di polvere e terra, nido d'uccello, casa sbagliata. Casa che canta, con muri di voce, casa mattone, parete di vento, casa sperduta, casa crollata. Casa di carta, casa alveare, casa che ronza, casa lumaca, guscio di noce, ampolla incantata. Casa di fuoco, che accende la notte, casa di scale, di passi e silenzio, Casa di vetro, che sale nel cielo, casa di bestia, spelonca nascosta, buia caverna, reggia fatata. Casa di stelle, di neve e pensieri, casa parola, di lettere e inchiostro, casa dell'orco, casa quadrata. Casa di niente, di sole e finestre, buco segreto, rifugio nell'ombra, caldo riparo, casa gelata. Torre di pietra, conchiglia di luce, casa sull'acqua del tempo che è stato, casa che corre su piedi di pollo, casa futura, casa dipinta, casa prigione, casa scoppiata. Casa sull'albero, casa tappeto, casa vestito, pagoda e glu, tenta, capanna, stamberga, scrigno, casa rubata, che non c'è più. Casa di un'ora, casa per sempre, casa di sassi, casa di adesso, scatola magica, casa smarrita, casa impossibile, casa apparente, palazzo, stalla, dura panchina, morbida tana, culla accogliente. Casa di fuori, casa di dentro, casa di suoni, di gocce sul tetto, casa ogni notte, percorsa nei sogni, pentola, piatto, tavolo tondo, casa nel bosco, letto di paglia, casa scavata, che batte nel petto. Casa sprangata, porta sul mondo, orto, giardino, parco di re, oggi seduta qui sulla soglia, guardo i tuoi muri e vedo me. Ogni casa è diversa, ma ogni casa è accogliente per ogni bambino. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima storia!